Benvenuto, è un piacere averlo con noi, Massimo Bitonci che proprio da quel veneno viene perché è stato sindaco di Padova ma oggi come esponente della Lega è anche il sottosegretario al Ministero dell'Economia. Prima di entrare nel merito delle questioni della nostra puntata, Bitonci vorrei approfittare della sua presenza per domandare la ragione di questa pagina della Repubblica. La Repubblica anticipa la possibilità coltivata da Tria di anticipare la flat tax andando a intervenire nella scaglione dell'IRPEF che riguarda la stragrande maggioranza dei contribuenti, quella del 38% che riguarda i contribuenti da 28.000 a 55.000 di reddito. È una ricostruzione fondata sul vero? Può dirci qualcosa di più? Dare una buona notizia ai contribuenti? Certamente, noi proprio ieri abbiamo avuto un incontro sottosegretari e viceministri con il nostro ministro Tria e abbiamo affrontato tutta una serie di tematiche che sono sul tavolo, ovviamente il governo ha appena iniziato il suo percorso e non nascondo che tra questi temi non c'è solamente la flat tax sulle imprese, come tutti sanno se ne parlano ormai da qualche settimana c'è un'ipotesi sul tavolo di ampliamento del regime forfettario per tutte le piccole attività professionisti e aziende fino a un limite di 100.000 euro di fatturato e questo potrebbe interessare circa un milione, un milione e mezzo di partite IVE con una completa semplificazione degli adepimenti del regime fiscale con un unico versamento di un'imposta sostitutiva del 15% e del 5% per le nuove iniziative a seconda dei coefficienti quindi direi che questa è stata molto apprezzata da tutte le categorie economiche e professionisti ma c'è sul tavolo anche il tema dell'IRPEF, quindi di un taglio e di una graduale sostituzione attraverso una flat tax con due alicote perché alla fine si arriverà a due alicote con un sistema di detrazioni e deduzioni che trasformi un'imposta che è sulla carta un'imposta proporzionale in un'imposta che ha una certa progressività sappiamo che le famiglie più colpite sono quelle con i redditi medi c'è una grossa e importante differenza rispetto all'imposizione anche di altri paesi europei quindi giustamente il ministro sta lavorando su questo tema anche se non nascondo stiamo discutendo su una no tax area per i redditi più bassi e quindi per andare incontro a tutte quelle persone che hanno un reddito estremamente basso una pensione bassa che sono quelle che hanno una maggiore propensione poi al consumo le persone che consumano di più ho capito bene un primo intervento sull'IRPEF che riguarda la fascia del 38% per arrivare a fine legislatura stiamo lavorando su due tavoli uno per le imprese dove si partirà sui professionisti e le piccole attività che sono fino a un certo volume d'affari che però è una platea molto alta perché abbiamo 4 milioni e mezzo di imprese la maggior parte di queste hanno veramente un volume d'affari basso e anche un basso numero di dipendenti ma in contemporanea c'è l'altro tavolo sull'IRPEF allora do il benvenuto